il mio laboratorio finalmente è stato ricreato piccola casetta di legno dentro concentrato tutto quello che ho risparmiato da successive riduzioni 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 di materiale ereditato il mio vecchio elettrico che è finto è solo vintage gli strumenti erano del quadro di comando del motore delle macine del mulino dove lavorava mio padre anche lo strumento di mezzo pannello poi finto non è di lavagna ma di legno arniciato color lavagna il pc che mi da tanti anni l'amplificatore questo l'amplificatore è carino l'amplificatore l'amplificatore di nuova elettronica 40 watt per carino in realtà sono se no una trentina mi sembra una vita l'X114 una botta di bricolace intenso siamo consumatori seriali di marmellate calipo anche di tonno calipo questo è il piccolo laboratorietto bel banco da lavoro luci dell'ikea per il resto tutta tecnologia avanzata agli altri la mossa di babbo e via l'amplificatore di